Lutto per la politica cremasca si è spento ieri all'età di 82 anni Maurizio Noci, ex sindaco di Crema, deputato e senatore, punto di riferimento dei socialisti cremaschi e socialista storico, sia quando Bettino Craxi era all'apice della carriera politica, sia quando venne abbandonato da tutti a seguito dello scandalo di Tangentopoli, un uomo Maurizio Noci che ha ricoperto cariche importanti nella politica locale e nazionale. Primo cittadino di Crema dal 1975 al 1979 è stato senatore della Repubblica per due legislature, l'ottava e la nona, deputato alla Camera nella decima legislatura, nell'ultimo governo guidato da Giulio Andreotti, ricoprì anche l'incarico di vicepresidente della commissione di vigilanza RAI e sottosegretario all'agricoltura. Una carriera ai massimi livelli, politico di razza come si suol dire, ma conquistata dal basso, dalla passione e dal desiderio di incidere e migliorare le condizioni del proprio territorio e del proprio paese. Ha iniziato a lavorare come operaio all'Everest, poi è diventato sindacalista, consigliere comunale, assessore, sindaco, parlamentare, senatore. Una scalata che ha vissuto, li riconoscono tutti, compagni di partito e avversari politici, non per se stesso a fini egoistici, ma per il bene comune, con ricadute importanti sulla città. Lavorava tantissimo e con lui sindaco, prima giunta di sinistra dopo anni di democrazia cristiana, Crema ebbe il primo centro natatorio comunale, recuperò il parco Bonaldi, ampliò lo stadio Voltini ed acquistò l'ex nosocomio di Santa Maria. Moltissimi messaggi di cordoglio arrivati dai politici di qualsiasi schieramento, che hanno di lui un ricordo commosso e sincero, a partire dai compagni di partito come Virginio Venturelli, che di lui ricorda la memoria da Elefante, ad Agostino Alloni, che ricorda invece di Maurizio la grande passione e lo spirito critico. Maurizio Noci lascia l'attuale moglie, Emanuela Pedrini, e un figlio, Mario. La camera ardente è stata allestita nella sala ricevimenti del comune di Crema, mentre il rito funebre civile si terrà domani, sempre in municipio.